Ragazzi, buongiorno! Questa mattina mi sono svegliata con la neve Ah, è stranissimo perché essendo una città di mare al centro Italia non vediamo la neve molto spesso e quando la vediamo perlomeno io parlo ferme quando la vedo, ah, impazzisco è troppo bella! Come vedete ho appena fatto la doccia ho lavato i capelli e siccome molti di voi mi chiedono cosa uso per lavare i capelli ho utilizzato il Pantenne Rigenere e Protegge per quanto riguarda lo shampoo mentre per il balsamo sto provando questo che è della Noah avevo già uno shampoo di questa marca e mi sono trovata bene questa però è Leeds a base di acque attive e di foglie certificate biologiche balsamo idratante alle foglie di edere e olio di mandorla ed è bio è un balsamo bio ed è fantastico io l'ho provato su devo ancora asciugargli i capelli devo ancora vedere com'è effettivamente però insomma questo è il balsamo spero lo vediate non lo vedete dai che ce la fai esatto il balsamo è questo devo ancora asciugare i capelli come ho detto per cui non so effettivamente la resa e come reagiscono i miei capelli con questo specifico balsamo però sono molto positiva perché insomma è un balsamo biologico è un balsamo tra virgolette gentile per i capelli quindi insomma e c'è mio fratello che parla al telefono mio fratello io dovrei asciugare i capelli però sto cercando di farli sgocciolare per bene dentro l'asciugamano che tra l'altro è una ficata perché si aggancia qui dietro ha un bottoncino particolare sono seduta di fronte alla finestra e sono troppo troppo tentata di uscire di fare una bella passeggiata sotto la neve dovrei recuperare i doposci che sono in garage e non è missione semplice non è missione molto semplice però sono troppo 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 tentata di uscire di fare una passeggiata sotto la neve oggi è lunedì e sono le 10 di mattina ovviamente tutte le scuole sono state chiuse per il maltempo quindi non c'è scuola di moda non c'è il corso di grafica non c'è nulla alle 2 wow ragazzi io sono estasiata alle 2 dovrebbe uscire un nuovo video che a quest'ora dovreste già aver visto e devo finire di esportarlo e devo finire di caricarlo cioè devo finire dovrei iniziare a caricarlo su youtube spero che faccia in fretta e niente sono nella neve ho messo i doposci io lo sentite questo rumore io lo adoro finalmente sono in mezzo alla neve non vedevo l'ora mi piace troppo e anche se si sta sciogliendo e se si sta formando dove stavo guardando si sta formando il ghiaccio però non lo so sono contenta è una bimba oddio quanto mi piacerebbe averla ogni anno la neve e vorrei trasferirmi in un posto vivere in un posto dove insomma la neve c'è ogni anno dove si accende il camino e in realtà mi piacerebbe molto spostarmi a Brighton mi piacerebbe tantissimo potermi spostare lì avere casa con un camino e tutte queste cose qui a voi piacciono di più i posti freddi e questi caldi? me lo fate sapere giù nei commenti mi piacciono di più ahhh 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 Grazie a tutti.